a salire e continueremo a salire per tutto l'arco della serata per un applauso ve lo chiedo per lui, la pisa armonica di Michael Prosperi vi farà ballare e anche ascoltare un grande balzer, anzi il balzer per eccellenza creiamo un po' di atmosfera sul palco, non tutto bianco, una bella luce su di lui un bel blu soffuso, andami avanti carnevale guarda i ballarini che sono lì, che fremono, fremono prima di fremare ha fatto un applauso e poi lui parte così può partire e adesso cresciamo, l'intro è finita l'intro è finita l'intro è finita l'intro è finita si cambia senti che roba ha già messo la quinta A presto Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Chi l'avesse smarrita ce l'abbiamo noi, facciamo qua. Vai, Michael, forza! Allora, mettiamo! Allora, mettiamo! Allora, mettiamo l'applauso, se l'america sì, Michael Prosperi! Applauso grandioso è arrivato, grazie a voi, bravo Michael, continuiamo con la manzurca, la manzurca di oggi. È un tormentone del momento, la manzurca signora del tenore, del tenore. La manzurca del tenore, non è facile da cantare, prova se vuoi, ma ti devi impegnare. Tra overture e operette, sempre chiusi in cadere, per studiarla a nuovi l'arte e metterla da parte. La manzurca del tenore, mamma mia quanto spessore, prova con me, tornerà il tuo rumore. Non temere di agli coppia, anche se la gente ascolta, canta senza avertimone, la manzurca del tenore. Allora, signora è super applausata! Beata lei, beata lei, beata lei, beata lei, eh! E ma noi tra 40 giorni andiamo a Charme, eh! E qua abbiamo qualche amico che verrà con noi, mancano ancora 15 posti. Affrettatevi! Ciao, cara! La 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 la, ho, ho, ho! La mazzurca del tenore sta giungendo alla sua fine Ora se vuoi lo puoi anche ballare Ci vorrebbe un gran finale, ma che cosa si può fare Per finire con effetto, con un do di pezzo Per finire con effetto, con un do di pezzo Finale! Eccola qua, tenore Anthony! Grazie!